E' ripartita da 15 giorni la stagione della cestistica torranovese. La squadra è stata affidata alla rientrante coach Domenico Bacilleri e con lui la cestistica si appresta a partecipare al terzo campionato consecutivo di Serie D dove essersi formata in semifinale playoff lo scorso anno. Il team giallo-blue riparte con grande entusiasmo, visto anche il doppio colpo firmato nei giorni scorsi con l'arrivo dei due americani Diacenco e Campbell. Quest'anno per noi, a me piace definirlo come l'anno zero perché sicuramente abbiamo abbracciato in pieno quello che è il progetto della società, cioè dare spazio ai giovani e finalmente abbiamo dei nostri giovani che vengono nei nostri settori giovanili che faranno parte di questo progetto e speriamo che non siano semplicemente delle comparse ma siano dei protagonisti. Sono molto contento di poter essere una parte importante di questo progetto, mi auguro anche se poco esperto ma sicuramente sarà un anno importante e costruttivo per me. Sicuramente ci auguriamo di fare un campionato di vertice, abbiamo tutte le carte in regola per fare un campionato di vertice dopodiché ragioneremo step by step, passo dopo passo, quindi guardando una partita alla volta cercando di evitare quei mancamenti che hanno fatto parte di noi negli anni scorsi. Grazie.